Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft L'altro giorno stavo pensando che tantissimi nuovi giocatori si approcciano a questo gioco E molto probabilmente si sentono un po' persi all'inizio perché non sanno come giocare Per cui oggi faremo una simulazione come se questo fosse il mio primissimo giorno su Minecraft Mettiamo la lingua italiana e creiamo un nuovo mondo Per creare il mondo qua avete tutte quante le opzioni Io vi consiglio di scegliere modalità sopravvivenza all'inizio E poi potete scegliere tra normale, difficile o pacifica Pacifica e senza i mostri Vi consiglio facile come prima volta Creiamo il nuovo mondo Sono abbastanza sicuro che in questo video riuscirete a trovare qualche consiglio utile A cui magari non avete mai pensato o che non avete mai visto da nessun altro Quindi questa è una vera e propria guida su come giocare a Minecraft e come sopravvivere la prima notte Ed eccoci qua nel nostro primissimo mondo Ora la prima cosa che dovete fare secondo me è andare nelle opzioni e cambiare la grafica In modo tale che se avete un computer un pochettino scarso che va a carbonella Abbassate la distanza di resa In questo modo vi lagherà di meno Dopodiché io solitamente vado nei comandi E cambio un pochettino di cose Per esempio per cambiare la visuale e guardarmi in faccia Uso il tasto R E poi cambio anche gli slot facili Quindi lo slot numero 8 lo cambio con la X E lo slot numero 9 con un tasto del mouse In questo modo guardate Potete raggiungere l'inventario anche con i numerini della tastiera Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via Oppure con la rotellina del mouse Ora qual è la primissima cosa che si fa su Minecraft per sopravvivere? Dovete rompere la legna È semplicissimo Tenete premuto il tasto sinistro del mouse Fino a rompere tutto quanto E adesso vi spiegherò anche i crafting iniziali Perché io sono sicuro al 100% ragazzi Che qualcuno di nuovo c'è E in questo modo potrete imparare qualcosa Più avanti andiamo più vi spiegherò E entreremo nel dettaglio di questo gioco Quindi anche voi che credete di essere degli esperti Potreste imparare qualcosa da questo video E mi raccomando lasciate i tanti Mi piace Ora prendiamo tanta legna in modo da non doverla riprendere Ma adesso apriamo l'inventario con il tasto E E selezioniamo questi tronchi E li facciamo diventare assi di quercia Quindi dal tronco dell'albero Facciamo la legna lavorata Per fare la crafting table Facilissimo Il crafting più semplice di tutto Quattro blocchetti di legna E si crea la crafting table Che ci permetterà di avere più spazio In questo modo potremo craftare quello che vogliamo E dobbiamo iniziare obbligatoriamente dagli sticketti I crafting sono molto facili Perché con la legna messa in questo modo Crei lo stick Ovvero il bastoncino Che ha praticamente questa forma Quindi è tutto molto intuitivo Per un piccone ovviamente Bisogna fare la forma di un piccone Ma non in questo modo Bisogna utilizzare il bastone Per fare il manico E poi il piccone in legno In questo modo Ma adesso il piccone non ci serve Ci serve l'ascetta Infatti come vedete Ha la stessa forma di questa Creiamo un'ascia Per prendere dell'altra legna Perché non è mai abbastanza Più legna avete Meglio è Anche perché un blocco di questo Equivale a quattro blocchi lavorati Quindi avete tantissimi blocchi adesso Per andare in giro Che potete piazzare ovunque Con il tasto destro del mouse Ecco Ora facciamoci subito un bel piccone Come vi dicevo I crafting base sono Ascetta Piccone Dopodiché la spada Anche questa Ha la forma della spada Quindi è facilissimo Poi possiamo fare una pala E infine Possiamo fare anche La zappa Che questa in realtà Vi servirà un po' a meno Però Più in là vi servirà sicuramente Riprendiamo la crafting table Con l'ascetta Per le robe in legno Ragazzi dovete utilizzare Sempre questa Per rompere i blocchi di terra Utilizzate la pala E per rompere i blocchi di pietra O i minerali Dovete utilizzare il piccone Fino ad ora credo Di essere stato abbastanza chiaro Adesso Possiamo migliorare questi oggetti Utilizzando la pietra Per cui continuiamo A prendere tantissima pietra E ci è dato anche L'achievement Come vedete Età della pietra Perché stiamo avanzando Nel gioco E tra dieci minuti Arriverà la notte Perché dopo dieci minuti Arriva la notte di minecraft E dovremmo cercare Di sopravvivere ai mostri Anche se io ho messo Difficoltà facile Quindi non sarà difficilissimo I mostri sono un pochettino Più semplici da uccidere Ripiazziamo giù la crafting table E iniziamo a fare L'upgrade Dei nostri materiali Quindi piccone In pietra Facciamo degli altri bastoncini Che non ne avevo più Poi ci facciamo L'accetta In questo modo E li cambiamo Io vi consiglio Di tenerli comunque Perché non si sa mai Magari li finiscono E li potete utilizzare Come materiali di scorta E infine Ci facciamo Una bella spada In pietra Oh Adesso abbiamo tutti Gli utensili migliori Il prossimo step Sarà quello Di trovare Del ferro Per farci un'armatura Infatti Esistono diverse armature L'armatura in pelle L'armatura in maglia L'armatura in ferro In oro E in diamante E adesso anche in nederita Perché ci troviamo Nell'1.16 Se volete vedere Le vostre coordinate Non dovete far altro Che premere il tasto F3 Della vostra tastiera E qua Vi dirà La X La Y E la Z Quelle che vi serviranno Veramente sono La X e la Z Per orientarvi Nell'asse X O nell'asse Z Mentre invece La Y Vi servirà per capire Quanto in alto siete Quindi al momento Io sono 80 blocchi in altezza Se scendo giù Adesso sono a 74 Molto semplice Quindi Come vi dicevo Adesso il prossimo Il prossimo step Il prossimo obiettivo È quello di trovare Del cibo Che solitamente Riuscite a trovare Da qualsiasi animale Quindi non dovrete fare altro Che uccidere Tutto quello che vedete Lo so È un po' brutto Da dire Però in questo modo No vabbè Tu sei piccolo Ti lascio vivere In questo modo Potrete ottenere Della carne Oppure del pollo O tante altre cose Se siete vegetariani Rompete le foglie E vi usciranno Delle mele Ecco questo È un pollo Che solitamente Muore con una spadata E basta Andiamo a prendere Dell'altra pietra Perché ci servirà Per fare la fornace Perché ovviamente Non potete mangiare La carne cruda Altrimenti vi viene L'indigestione E poi avete il mal di pancia Tutto il giorno Quindi cuciniamo Questa carne Per cucinare la carne Vi servirà Del combustibile E ovviamente Anche una fornace Il combustibile Lo trovate dal carbone Oppure potrete utilizzare Anche la legna Materiali in legno Quindi come questi Che potete mettere Anche se durano poco La lava Potete utilizzare Tantissime cose Per cuocere il vostro cibo E per fare la fornace Molto semplicemente Prendete la pietra E fate un cerchietto Lasciando un buco al centro Ecco la nostra prima fornace Che piazziamo qua Qua va il combustibile Quindi carbone E qua invece Mettiamo le cose a cucinare Come nella vita reale ragazzi Carbone sotto Fiamma sopra E cibo sopra Non vi preoccupate Non si brucerà Quindi potete tenerla qua Anche per 45 anni E poi ve la potrete mangiare Le cose per fortuna Su minecraft Non scadono Il carbone Oltre a darvi Tantissime risorse Vi dà anche i livelli Che più in là Vi serviranno Per enchantarvi E mettere gli incantesimi Nelle vostre armature Nelle vostre spade Per diventare sempre più forti Ecco qua il ferro Ferro di minecraft Che ci servirà tantissimo Ragazzi perché Oltre a poter migliorare I nostri utensili Possiamo anche farci Un'armatura Che ci proteggerà Dai mostri cattivi E io vi assicuro Che ne avrete bisogno Soprattutto se inizialmente Non sapete come muovervi Anche il ferro Ovviamente non posso fare Un piccone di ferro In questo modo No Lo dobbiamo prima cucinare Dobbiamo sciogliere Questo ferro Sempre con una fornace Proprio come nel cibo Che ci darà I lingotti di ferro Con i lingotti Poi potremo fare gli upgrade Ok Qua abbiamo il cibo Piccolo consiglio Se cliccate su qualsiasi oggetto E poi lo andate a spalmare Nel vostro inventario Lo riuscite a dividere In modo equo Per poi riprendere tutto quanto Tenete premuto control E fate doppio clic Su un oggetto E vi Vi si unisce Tutto quanto In un unico blocco Ah Ha un'altra cosa Che molti di voi Probabilmente non conoscono Andate nei comandi E attivate La corsa Fissa Quindi con questo corri Io l'ho messo su control sinistro Quindi il control Che si trova a sinistra Della tastiera Se io premo Control Posso correre Automaticamente Senza fermarmi Non appena toccherò Un blocco Ovviamente mi fermerò Lui è uno zombie Il mostro più inutile Di minecraft Lo potete uccidere Senza alcun problema Perché dopo tre spadate Muore E così riuscite a sopravvivere Anche ai suoi attacchi Dovete sapere Che i mostri Di giorno Teoricamente Dovrebbero morire Perché prendo un fuoco Tranne i creeper E i ragni Infatti loro sono come Dei vampiri E adesso lui al momento Sta andando in fiamme Uccidiamolo Perché non mi sa Per nulla simpatico Quindi via Lasciami stare Sto parlando ai miei iscritti Ok il ferro qua Si è messo a cuocere Quindi facciamo adesso L'oggetto più potente del mondo Ovvero l'elmetto in ferro Sì se non lo sapete Questo qua è il pezzo Di armatura più forte No in realtà No devo fare il serio Non è il pezzo di armatura più forte Però è un buon elmetto E io vi consiglio di farlo Adesso ci resta Un lingotto di ferro Cosa ci faccio con un lingotto? Ci faccio una pala? No Sarebbe sprecato Quindi me lo conservo E poi ci farò una spada O un piccone Le cose inutili invece Vi consiglio di buttarle Per buttare gli oggetti Vi basta trascinarli fuori dall'inventario Oppure premere il tasto Q Della vostra tastiera In questo modo le buttate giù E se volete buttare Uno stack intero di qualcosa Tenete premuto control E cliccate Q E se ne va via tutto quanto Questi sono piccoli consigli Che ancora molta gente Non conosce Craftiamo uno degli oggetti Più importanti di questo gioco Ovvero le torce Con un bastoncino E del carbone Prendiamo queste torce Le mettiamo nella seconda mano Così con il tasto destro Possiamo Del mouse Possiamo piazzare le torce in giro Per illuminare Il nostro cammino Le torce Servono tantissimo Perché intanto Se illumino una zona buia Poi non spunteranno i mostri In quanto i mostri Spuntano nelle zone buie E in più Vi permettono di vedere meglio E magari Di non perdere di vista Alcuni materiali Ecco questa è la lava Quindi io vi consiglio Di stare molto Molto lontani dalla lava Perché se ci dovesse cadere dentro Morireste Mentre questa è Oh cavolo stavo cadendo Ho fatto un salto Con la barra spazietrice Se non lo sapevate Mentre questa invece È l'acqua Per risalire dall'acqua Mentre state affondando giù Dovete tenere premuta La barra spazietrice E vi assicuro Che questo sembrerà Un consiglio stupido Ma io ci sono morto Il mio primo giorno Di minecraft Perché non sapevo Come uscire fuori Dall'acqua Adesso che siete Praticamente dei maestri Non vi resta Che creare Il vostro primo rifugio Io non vi consiglio Di farlo in terra Anche se non c'è Niente di male Perché alla fin fine Ragazzi È un blocco Abbastanza duraturo Nessuno lo può rompere I player lo possono rompere I mostri No Però se volete Sopravvivere Alla vostra prima notte Senza troppe spese E troppi problemi Vi fate un bel buchetto In terra così Anche se ripeto Fa un po' schifo Cioè esteticamente Non è il massimo Però funziona E poi vi craftate Una bella porta Per fare una porta Questo qua È il crafting Quindi come vedete Si sta facendo notte Il sole sta tramontando E tra non molto Si riempirà di mostri cattivi Quindi Chiudiamo Tutto quanto qua per bene Facciamo una bella casetta Penso che questo Sappiate farla tutti quanti E poi mettiamo le porte Così Oh cavolo No Ho sbagliato Ok per fortuna Là ci sono delle altre pecore A cosa mi serviranno le pecore Le pecore mi serviranno A fare il letto Che è importantissimo Quindi Ammazzate le pecore E prendete la loro lana Per fare le coperte Del vostro letto Infatti Su minecraft È possibile saltare la notte Come nella vita reale Semplicemente dormendo Vai a dormire E ti svegli il giorno dopo Che è giorno Il letto si fa in questo modo Ovvero Delle assi di legno sotto E la coperta sopra Fai il letto bianco Lo piazzi qua E vai a dormire Buonanotte E adesso siamo ufficialmente Sani e salvi Perché di nuovo giorno I mostri non sono spuntati Perché non hanno avuto tempo E anche se fossero spuntati Adesso brucerebbero Perché il sole Li sta picchiando Duramente E così Siete riusciti a sopravvivere Alla vostra prima Notte Di minecraft È molto semplice Adesso non dovete far altro Che continuare A esplorare Tutte quante Le zone immense Le caverne E a cercare I vari dungeon Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Fatemi sapere Se vi piacerebbe Una seconda parte Dove entro un po' più Nel dettaglio Per farvi vedere Le cose degli esperti Come attivare i trucchi Perché molti non lo sanno Ma ci sono anche I trucchi su questo gioco Che ti permettono Di volare O di ottenere Tutti i materiali Che vuoi Anche centomila diamanti Se secondo voi È stata una buona idea Registrare questo video Scrivetelo qua sotto Nei commenti Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao